Un cordiale saluto, ben trovati a Da Tu per Tu, la trasmissione realizzata da Trentino TV in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con Paola De Magri, Consigliera Provinciale del Partito Autonomista Trentino Tirolese. Buonasera. Ben arrivata nei nostri studi. Allora, questa prima tornata di interviste prevede un autoritratto da parte del Consigliere o della Consigliera Provinciale. Dunque iniziamo proprio con questo, Consigliera De Magri, un suo autoritratto sul suo percorso che l'ha portata nel 2018 poi in Consiglio Provinciale a Trento. Grazie. Dal punto di vista professionale, io sono entrata in sanità nell'85, mi sono occupata di coordinamento sia a livello ospedaliero che a livello territoriale. Poi proseguendo gli studi ho approfondito attraverso una laurea magistrale l'argomento che riguarda l'organizzazione e quindi ho lasciato il mio incarico a settembre in qualità di responsabile dei servizi infermieristici dell'ospedale di Cless. Per quanto riguarda invece il mio profilo politico, devo dire che l'attività politica è iniziata adesso con questa mia candidatura, anche se ho sempre seguito la politica perché chiaramente nel nostro ambiente, ma come dovrebbe essere in tutti gli ambienti, sappiamo quanto è importante seguire quello che avviene a livello politico e poi comprendere come viene calata all'interno delle nostre realtà le indicazioni e le decisioni appunto politiche. Sono qui insomma a distanza di tre mesi dall'elezione, devo dire entusiasta del ruolo insomma che mi è stato assegnato, anche il ruolo di garante delle minoranze e dell'attività che ho iniziato appunto a intraprendere. Al di là dei suoi primi interventi in aula di cui parleremo dopo, che cosa si prefigge in questa legislatura? Quali sono i suoi obiettivi? I miei obiettivi principali sono quelli che ho dichiarato anche durante la campagna elettorale, quello di approfondire le tematiche e andare a migliorare quelli che sono servizi e quant'altro in modo particolare per quello che riguarda l'ambiente sociosanitario, che è quello più affine diciamo al mio background. Poi mi rendo conto insomma quotidianamente che non è sufficiente fissare l'attenzione su quelle che sono le nostre conoscenze, quindi piano piano sto prendendo anche coscienza e conoscenza di quelli che sono gli altri ambiti, l'ambito artigianale, l'ambito degli enti locali. Però mi rendo conto insomma lavorando quotidianamente perché quanto sia importante dapprima l'approfondimento e la conoscenza, dopodiché anche possibile promuovere, fare azioni di promozione, di mozione e quindi tutto sommato insomma io mi prefiggo di lavorare per il bene del Trentino, per il bene dei nostri cittadini. E veniamo ai suoi primi interventi in aula, ecco ci sono già stati questi primi mesi, c'è stata l'approvazione della variazione alla manovra di bilancio della provincia, insomma quali sono state le sue prime azioni? Le mie prime azioni hanno appunto riguardato l'ambiente sanitario, sociosanitario, quindi in particolare l'attività legata all'azienda sanitaria e alle case di riposo, perché c'erano degli aspetti che in qualità di presidente della casa di riposo, appunto un incarico che io ho terminato a settembre 2018, avevo sul tavolo e non riuscivo appunto dal punto di vista politico a portare avanti le modifiche e quindi come consigliere provinciale ho iniziato appunto questo. Mi premeva in particolare riguardo alle direttive delle case di riposo chiedere la possibilità di modificare un criterio, che è il criterio della residenza dei nostri anziani. Oggi, l'avevo ricordato appunto nella mozione, che un residente che proviene da qualsiasi altra regione, nel momento in cui acquisisce la residenza in un paese della nostra regione, acquisisce il diritto come tutti i nostri cittadini trentini. E ho chiesto, e quindi è stato accettato dall'assessore, e ho visto appunto la delibera recentemente, che avrà dato mandato alle UVM di individuare il criterio per graduare anche il numero di anni di residenza. Altri provvedimenti e altre questioni che hai in mente di affrontare o stai già affrontando? Beh, un'altra questione affrontata, che non ho ancora discusso in aula, riguarda lo spazio argento. Altro argomento caldo, ormai è da due anni che se ne parla, però lo ritengo, lo ritenevo, insomma, un modello organizzativo piuttosto vuoto di contenuti. C'è stato un altro rinvio in questi giorni? Non abbiamo ancora discusso in consiglio provinciale, quindi vedremo se è possibile, insomma, discuterlo nel 12, il 13 o il 14 di marzo, a secondo appunto dell'ordine del giorno. E da qui a me premeva portare dei contenuti dentro questo modello organizzativo. Modello organizzativo importante, però le delibere precedenti, quelle del 2016 e del 2018, le trovavo piuttosto povere. Non erano state date indicazioni precise a chi doveva lavorare sul tavolo e, secondo il mio parere, il tavolo era scarso di quelli che sono gli stakeholder e quindi le persone che sono assolutamente interessate dell'applicazione di questo modello. Quindi ho fatto una proposta a tutto campo, innanzitutto chiedendo di posticipare la consegna dei progetti e ho visto proprio una delibera di giunta di ieri dove l'assessore appunto ha dato conferma del posticipo della presentazione dei progetti da parte delle comunità di Falle, ma mi attendo anche che vengano individuate le figure che vadano a lavorare su tavoli, che siano le figure che oggi si occupano già di attività verso gli anziani e soprattutto un modello che non pensi soltanto all'anziano, ma a tutta quella popolazione che oggi, dal punto di vista appunto di necessità, è incardinata all'interno delle comunità di Valle. Un tema questo molto importante e dal resto la popolazione, come sappiamo, invecchia e quindi c'è bisogno di risposte puntuali e precise per far fronte a questa che, insomma, può diventare un'emergenza. Certo, noi abbiamo sicuramente dei modelli per quanto riguarda la gestione degli anziani, direi avanzati. Io mi sono documentata, quindi ho approfondito anche attraverso la letteratura, attraverso la documentazione disponibile nelle altre regioni, ma devo dire che nella nostra regione siamo già in grado di fare molto. C'è ancora spazio di miglioramento. Sappiamo quanto sia difficile incrementare il numero di posti letto all'interno delle case di riposo, perché comunque siamo la regione con un numero più alto di posti letto rispetto alla popolazione anziana al di sopra dei 75 anni. Ecco allora che credo che come politica dovremmo inventarci, dico tra virgolette, quello che di fatto è già stato fatto, però qualcosa in più. Per esempio il co-housing. È sicuramente una modalità che ci garantisce probabilmente l'istituzionalizzazione più rallentata, quindi quando parlo di istituzionalizzazione chiaramente parlo di casa di riposo, trovare una forma che passi dal domicilio alla casa di riposo, una via di mezzo e che consenta comunque all'anziano di fruire di servizi che sono già a disposizione sul nostro territorio. Grazie alla consigliera Paola De Magri. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Le ringraziamo per essere stata qui con noi nei nostri studi. Vi ricordo, Paola De Magri è consigliera provinciale del Partito Autonomista Trentino-Tirolese. Per A Tu per Tu è tutto, vi do appuntamento ad una prossima puntata. Arrivederci e grazie per averci seguito. Grazie e arrivederci.